Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego un nuovo programma di editing quindi montaggio, video, foto, qualsiasi montaggio che voi volete fare su un programma di editing come Movie Maker quindi il programma si chiama Mini Tool Movie Maker, è gratuito però c'è anche l'edizione premium per approfittare anche di cose in più sul programma e soprattutto come puoi vedere, usare ricco di funzionalità, esperienza di editing, video con un click, ispira la tua creatività illimitata, pronto per tutte le scene ed esporta video 1080 senza filigrana, quindi senza filigrana, senza la scritta Mini Tool Movie Maker e telesporta senza problemi ed è anche un programma semplicissimo e facile da usare download gratuito e poi ci sono anche i prezzi del programma, come puoi vedere abbonamento mensile di 13 euro, di 13 dollari, tutti gli effetti video, desti, elementi, eccetera esporta video 1080, esporta video senza filigrana, esporta video senza limiti di lunghezza ed eccoli qua, questi sono i prezzi ovviamente se vuoi provare il programma c'è l'edizione gratuita, quindi scarica così Movie Maker una volta scaricato e installato così il programma, eccolo qua non ci resta che aprirlo e poi provare così il programma per farvi vedere come funziona ok, eccolo qua, quindi in questo caso vai su Importa così i file, clicca qua sopra prendi così un tuo file video, prendo un file video di un gioco, prendo così il file video e lo metto qua sopra, per creare così una transizione alla clip se io adesso sposto così questa barra e vado sulla taglio qui della forbice, Split ed ecco che mi ha diviso così la clip e ovviamente per le transizioni vai su Transizioni e qui puoi impostare le transizioni come vuoi e le metti qua per esempio prendo così questa macchia, un tipo a distanza del colore, la metto qua come puoi vedere ed ecco che è cambiato oppure puoi direttamente girare così la clip eccola puoi applicare così effetti video su ogni clip di Mini Tool Movie Maker quindi filtri bianco e nero lo metti qua ed ecco che è bianco e nero transizione ed esce a colori per il testo invece se io adesso vado a a mettere un testo qualsiasi mettiamo questo qua lo metto qui questo è il testo posso ridimensionare il testo che è veramente molto bello, comodo e semplicissimo scrivo qua sopra nel testo e scrivo ciao ed eccolo qua puoi ridimensionare così il tuo testo cambiare così il carattere cambiare così il colore il formato del testo in questo modo opacità puoi scrivere anche il tuo nome metterlo tipo come una firma metti opacità tipo 32-50% lo metti qua sotto che è veramente molto comodo questo programma ti consiglio di usarlo smanettarci un po' sopra per vedere se ti piace e poi se vuoi puoi anche comprarlo e riguarda le esportazioni export ed ecco così le esportazioni crei così il tuo video monti il tuo video scrivi il titolo al tuo video risoluzione 1080 60 fps 60 fps exporti ed eccolo qua per l'audio invece se vai sempre su media importa così file media vado direttamente su musica mettiamo la musica qualsiasi questa qua ed eccola qua metto la musica e la metto qua sotto di Far Cry 5 quindi se questo video ti è stato utilissimo su come usare un programma Minitrum Movie Maker un programma veramente semplicissimo quindi un nuovo montaggio quindi grazie per il vostro tempo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao